Ci troviamo in Contrada Marina di Mosciano Sant'Angelo, nel Terramano. Alle mie spalle, come potete vedere, c'è una abitazione crollata. Questa abitazione è crollata lunedì notte. Per fortuna la palazzina è disabitata, poiché tre anni fa c'è stata la prima frana in questa zona. Una zona, una Contrada, interessata dal movimento franoso, quindi da circa tre anni. Oggi siamo venuti sul posto, poiché ieri mattina è intervenuto anche il Movimento 5 Stelle con il consigliere mercante che ha ascoltato gli abitanti e ha anche criticato la situazione perché pare che il governo e la regione in questi tre anni non abbia fatto nulla, neanche uno sopralluogo. Oggi noi qui abbiamo ascoltato anche i residenti della zona. Dove vive? Vive in un albergo. Poi le viene rimborsato? Rimborsato, 300 euro al mese. E con 300 euro dovrei, alle spese che mangiare, dormire... Dovrebbe affrontare con 300 euro, dovrebbe vivere per un mese con 300 euro. E effettivamente non ce la fa. Ecco, raccontiamo questa situazione. Quindi nell'agosto del... quando c'è stata la prima frana qui in questa zona? A dicembre. Dicembre del 2013. E io dopo un anno ho dovuto andare fuori perché la mia è rimasta ancora intatta, no? Poi piano piano la frana è... Si è allargata. E si è allargata e ho dovuto andarmene via. Ecco, lei fa parte del comitato di Contrada Marina. Quanti abitanti ci sono qui? Noi siamo in otto nel comitato. Che siamo sfrattati. Siamo sette famiglie. Qual è l'appello che vuole fare oggi? Che niente, io ho 40 anni di emigrante, ho fatto fuori all'estero, per farmi sacrifici, per farmi questa casetta e oggi l'ho perso senza dire a qualcuno come e quando. Io non ho fatto niente per poterla perdere, io l'ho sempre costruito come si deve. L'ho persa. Grazie.